Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Elen che mi chiede di parlare del film del 2000 di Lasse Allestrom una splendida Juliette Pinoche, Johnny Depp, Peter Stormer, Alfred Molina, Elena Olin è un ottimo cast per questo Chocolat, appunto film, è una commedia diciamo così in un certo senso romantica che ha avuto un grandissimo successo che sicuramente non è un brutto film ma che però non arriva proprio ai miei gusti nella storia del 1959 di questa donna con la figlia che arrivano in questa cittadina Lancet Soustanet si chiama così più o meno perché il mio francese fa più ca' quasi di alcune scene di questo film Bianna appunto così il suo nome è la figlioletta Anouk quindi si stabiliscono in questo paesino, prendono in affitto un locale ed aprono appunto questa cioccolateria che lentamente la nostra nonostante sia davanti a una chiesa abbia il sindaco contro i bigotti contro il piano piano comincia sempre più a prendere piede perché lei ha il giusto gusto sembra quasi una strega attraverso questa cioccolata riesce a stregare appunto tutti i cittadini che piano piano si avvicinano sempre a lei, il negozio ha sempre più successo finché insomma questo sindaco non vorrà fare con i bigottoni della città una cosa contro di lei poi arriveranno gli zingari in città già i benpensanti rompano il cazzo la nostra si innamorerà di Roof, quello interpretato da Johnny Depp che prenderà le sue parti di poi tutta la storia del film è un film classico film da Oscar, classico film da premio, classico film commerciale con una grandissima grandissima, ho detto che Juliette Pinoche riesce a recitare tutto buono anche Johnny Depp, è un film che tutto sommato però vira troppo verso la commedia le cose diciamo così più serie vengono lasciate da una parte e poi il film a volte è un po' tirato, veramente troppo retorico, moscione io sono arrivato a un certo punto che la melassa e la cioccolata mi usciva dagli occhi e dalle orecchie sinceramente non è proprio il tipo di film che amo un certo tipo di dramma però virata a commedia appunto sul romantico che vuole avere tantissimi personaggi e ha dei grandi attori come Alfred Morino, ha detto Peter Stormer e altri che riescono a rendere questi personaggi però secondo me scavando scavando sotto questo quintale di cioccolata non si trova altro che il vuoto cosmico non c'è molto al di là appunto di un certo tipo di amore che si vede appunto anche nella protagonista nel preparare cioccolatini e si è allenata tipo sei mesi per fare la cioccolata ma non è quello il punto il punto è che la cioccolata in questo senso diventa protagonista sì e però rimane in secondo piano invece in secondo sottoscritto è tutto un ingarbugliarsi poi per cercare di fare qualcosa all'interno del film che non sia così statico come quello di fare cioccolatini basta un assaggio, una sega diceva cosa no? basta un assaggio, un cazzo un assaggio di questo film è anche troppo sì in effetti ne basta un assaggio perché a me personalmente proprio mi stucca oltre all'inizio sì chiaramente a far salire la voglia a tutti del plato uscita dal cinema magari la voglia della cioccolata però in realtà a me a un certo punto mi ha portato a un certo tipo di disgusto ma non solo verso la cioccolata ma verso un certo tipo di racconto che sapevo come andava a finire che poi portava sempre tutto a tra luce e vino a un buonismo eccessivo a una retorica che secondo me si fa di mortone sentì nonostante poi una bella fotografia il film sia montato con grazia con una sonora seppur rompi i coglioni comunque sta lì ripeto gli attori se la cavano però per me la Selstrom è proprio il classico regista mediocre e modesto al massimo un mestierante che può beccare un film quando gli capita bene un certo tipo di cinema di messa in scena super patinata super pronta super fatta per garbare a tutti e chiaramente alla fine non garba a me questo è quello che penso di Cioccolat al di là delle piccole scene che possono funzionare delle di alcune sequenze che chiaramente non sono buttate via ripeto perché il film oggettivamente non è malfatto è ben recitato non è che è scritto a cazzo di cane completamente ma è una scrittura che a me proprio mi rispinge in alcuni momenti è una messa in scena che mi risulta troppo troppo fasulla e eccessivamente colorata nel senso della patinatura nel senso anche della voglia del regista di raccontare la storia con queste inquadrature questi momenti di macchina che stuccano alla stragrande perché non c'è una vera forza nel racconto secondo me se non quello appunto degli attori ma davvero non basta almeno per il sottoscritto è un cult per tantissimi per tantissimi è un grandissimo film per me è tutt'altro però prendendo conto che è un buon film forse il problema è mio però io provo questo film come tutta quella cioccolata lì non lo riesco davvero a digerire resta il fatto che il link è qua sotto donate su Patreon mi piace iscrivetevi al canale il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube la campanella per avere subito le notifiche dei video seguitemi su Facebook su Instagram per tutte le cose che faccio a giro per l'Italia e poi insomma se amate il cinema romantico diciamo così che garbia tutto fatto appunto per non dispiacere probabilmente fa per voi se poi pensate che il cinema sia oltre la recitazione e una bella pattinatura forse questo film non è il caso che lo guardiate comunque l'ultima parola aspetta sempre a voi